bello a tutti ragazzi bentorni sul nostro canale di un nostro nuovo video come al solito io sono Gabriel, io Virillo, oggi vi andremo a fare vedere il nostro nuovo liquido vai Virillo, Isla, un liquidozzo fresco per l'estate della super flower, al suo interno ha pesca matura, kiwi e licis, che tanto ha, il liquidozzo lo potete trovare dal svacco caffè ricordiamolo, marina di carabin, moliciara e la spezia, allora vai, drip, 0 nicotina ricordiamolo, allora 20 ml di aroma ci va aggiunta la basetta, da 30 e diventa 50, chi ci vuole una nicotina la basetta 10 diventa 60, chi vuole fumare a 0 si raggiunge la basetta 0, viene 60 ml di liquidozzo per l'estate, dal mare, dal mare, andrò a provare con lo Tsunami kit, io sul West Nano, in cima alla boxetta, la DNA 75 VT Box, tanta roba, cioè all'ultimo si sente il licis che chi rimane in bocca, assurdo, ben fresco, non troppo ghiacciato per fare dei liquidi, giusto, giusto, non è forte forte, al bagaglio al palato, dolce, tipo caramelline anche, delle caramelline, che fa un po' delle caramelline, è buonissimo, fa un bel po' di fungo, 70-30, che volte gli dai? Sì, per me la zetta, io anche ho, ti piacciono fruttati così, per l'estate, io sono più amante dei tremoli, però, buono, buono, buono davvero, non mi aspettavo il liquidozzo così, ve lo fresco, sì, allora, dalla taverna dello swap è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate il like, iscrivetevi al canale, ricordatevi che abbiamo una pagina su Facebook e su Instagram, veniteci a seguire, ciao, ciao!